buongiorno è ormai usuale per me creare un piccolo altare vedete con uno smaggio che brucia una candela bianca adesso si è spenta gli elementi della terra un sasso colorato dei fiorellini l'elemento acqua dato dalle conchiglie legnetti che ho preso al mare e oggi volevo ricordare gli antenati e guarire anche la mia genealogia con un pensiero una preghiera un canto adesso vediamo un po quello che mi verrà questi queste persone che sono vissute prima di noi ecco mi viene da pensare oggi che noi siamo il frutto dell'amore di centinaia e centinaia di persone che ci hanno preceduto e volevo ricordarle e richiamarli a noi affinché ci diano un aiuto in questo momento non facile della nostra storia proprio momento storico particolare però può essere anche avvincente no questa avventura sempre più dentro di noi io vi saluto vi auguro una buona giornata e ecco vedete lo smaggio è un grande pulitore di ambienti ma anche si può spargere attorno alla persona per ripulire l'aurea e con intento anche qui di guarigione spirituale o anche fisica un abbraccio buona giornata